Marco De Marco e poi ovviamente l'autore Marcello Sorgi. Lavia. Devo dire che ho molto apprezzato, a parte il libro nella sua interezza e obiettività, la parte in cui Sorgi racconta la sua esperienza, come è stato detto anche all'inizio, all'interno della redazione dell'Ora, perché è sempre interessante vedere che tipo di evoluzione, che tipo di cambiamento c'è stato ed è tuttora in atto all'interno dei giornali e in generale dei media. È affascinante vedere e riscontrare quell'artigianalità e anche quella fatica, direi quasi fisica, che c'era un tempo e anche un po' confrontarla con come l'informazione si modifica e cambia anche rispetto all'apporto con la politica.